Stai comprando una casa in costruzione? Non lasciare nulla al caso, tutela il tuo acquisto. Con il decreto legislativo numero 122 del 2005, hai diritto di farti rilasciare dal costruttore una fideiussione a garanzia delle somme versate in anticipo e una polizza assicurativa di 10 anni in tuo favore. Il tutto senza costi aggiuntivi. Informati su www.consap.it